Al Via La Polizia Prato la peligna di 1100 tombini presenti sul territorio comunale, attività di manutenzione che interesserà anche le frazioni di Bagnaturo e Ponte La Torre. Si tratta di un'operazione straordinaria di svuotamento e polizia curata che per tutto il mese di ottobre sarà effettuata per garantire più efficace funzionamento dei tombini dislocati sulle strade del paese e delle sue frazioni. Abbiamo inserito il decoro degli spazi e dei luoghi pubblici nel nostro programma di mandato, ha sottolineato il capogruppo di Prato La Bellissima con delega all'ambiente Entoni Leone e in previsione dell'arrivo imminente della stagione invernale la pulizia dei 1100 tombini presenti sulle nostre strade è un passaggio fondamentale per prevenire le conseguenze spiacevoli dei tombini otturati, oltre a assicurare una maggiore pulizia dell'ambiente cittadino. Anche questo è un impegno con gli elettori che il sindaco Di Nino e la sua maggioranza stanno mantenendo con i fatti, conclude il consigliere.